DAREEVIL.EX Potrebbe benissimo esserlo Non è considerato per i deboli di cuore e quant'altro Ma probabilmente perché ti fa ingonciore Comunque ragazzi siamo lasciati qua sul cilio della torre All'Assassin's Creed come balzo della fede E dobbiamo continuare questa nostra avventura Che potenzialmente si sta rivelando sempre più difficile Più che si va avanti Quindi potrebbe essere magari un episodio lungo Probabilmente Siamo giocando livello e siamo morti diverse volte Quindi proviamo e andiamo avanti Ecco appunto Stavo dicendo proprio questo Insomma abbastanza difficile Riproviamo Quasi You can jump while falling down This can help with huge gaps You can jump while falling down Uuuh Impenna C'è questa roba Oh Scivola Scivola Ok ha detto diverse cose E non ho capito assolutamente niente Però a quanto pare Si può saltare anche in quel modo L'indizio era questo Quindi devo fare Eh si va Questo è il più difficile Aspettate Fermi tutti Fermi si è Così ok è semplice Questo si prende l'impenna Oddio Ok è surfato Ho fatto tant' bellissimo Ho surfato tutto Qui cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare sopra No Ok si surfa Ok ma è bellissimo Allora è bellissimo Sì ok no aspetta Devo fare Prendere il tempo E andare avanti Ok arriviamo arrivati No pensavo Non si nota Che si sposta lo schermo Qui si va ancora più veloce Non devo collezionare le monete Avete visto Nel scorso video Se è successo Esplodo Se collezionesti Vì esplode Sì Dunque noi Non stiamo andando Oh Fatto male Oddio Sì ecco 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 Uuh Quanto c'è Ma prendi la Thompson Prendi la Thompson Ragazzi In questo gioco c'è anche Undertaker Con la Thompson Wow Questi aggeggi ruotano Ogni volta che saltiamo Non stare attenti Doppio salto Triplo salto Doppio salto Doppio ancora E Ho preso il gettore Non dovevo prenderlo Fantastico Fantastico Che riproviamo Doppio Triplo E Doppio Madonna Perché non va più sopra dello schermo Non va sopra schermo Quindi devo passare Sotto Devo fare la stessa cosa di prima Vediamo se La cosa torna Ok Devo fare così Passare sotto Ok Dev not I've had this game Since Ok Hai fatto questo gioco Il 99 E se è felice di rilasciarlo adesso Non mai non ho lasciato Non l'ha fatto il 99 Se non io smettevo Di fare il videogiocatore Ok Andiamo avanti Occhio E beh sì Ho cominciato a giocare A videogiochi Nel tipo Nel 93 94 Quindi Oh Questo è più veloce Più cattivo Ok Vai Oh Non era difficile Non era difficile Thompson Ok Eh sì Qui come faccio a capirlo Ok Dopo non c'è niente Uno Due Ora Siamo un po' trolle Stavose Però non ho capito È un glitch No sono morto C'era un glitch Mi sento cuori che battono Perché Perché ci sono i cuori Che battono ragazzoli E anche se siamo Anche se siamo morti Continua La stessa musica Ora Ah perché gira Al contrario questo Eh No niente Ok C'è il glitch Devo ricordare di saltare Là sotto Ok Mi sa che qui ci mette Un po' di fretta Un po' di pepe Ma va bene Quindi ok Saltiamo Salto doppio No c'è il glitch Eh ma c'è Ah non posso Oddio Chi erano quelli Cos'era quella roba lì Dove che può fare un triplo salto Doppio salto No 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 Ma che sono Fermi Calma Calmiamoci Crysis Ok È fattibile È fattibile Deve essere veloce Deve essere svelto A fare questi movimenti Doppio Avanti Avanti Triplo salto Qui Vai Vai Would you like to play a bonus game Jan Jan era la cattiva Yes Their quest Up to start Ok Ma questo è un posto felice Sembra quasi Tipo una specie di Final Fantasy Gioco retro Roleplay They look so happy here Sono tutti quanti felici Qui ci sono i cagnolini Cioè questo che è Bambi Quello è Bambi Lupacchiotti Qui c'è una specie di mago Guarda che bellissimo Sì Mi si pianta ogni tanto Poi Un soldato Stiamo boni Stiamo calmi Qui due cosa vuole You don't belong here Cioè Perché si pianta Si ferma Ho ben capito Ho ben capito Perché si adesso Ho mutato ancora La canzone C'era una canzone Molto felice Prima mi rilassava Oh c'è qualcosa Alla su Devo andare lì Probabilmente Però non ci arrivo Devo trovare un buco Devo trovare un passaggio C'è un tronco Oh Baghetto C'è qualcosa da fare In questo posto Ok c'è una vasetta Fermi Arriviamo Ok bene Che cosa è arrivato Cos'era Would you like to play Bonus game Non mi è piaciuto Facciamo cagare De renoid Cos'è Cos'è Sì Mi è piaciuto Tantissimo Che abbiamo finito Sembolo principale Enjoy the bonus Grazie Oh caso Che sta succedendo Terzo livello Sono tipo glitch Che vengono Dalla memoria Di Di Yanna Three nemesis It's kind of like How the previous game Guns Ah sì Io non sto capendo più Cosa sta succedendo In questo gioco Sembrava un platform Tranquillo Ma mi sa che Abbiamo superato Un limite Ecco non ho capito Se accaddetto Bravo Crysis Comunque Vabbè Ripartiamo Terzo livello Facciamolo subito Instant Dai Vediamo un po' Dove è che arriviamo Prendiamo la Thompson Ecco fatto Guardatevi come si more Su Fermo Dai Oddio Non ditemi Come ho fatto Non ditemi Com'è che ho fatto A farlo Ok A caso A caso Completamente a caso Va bene Ok c'è una cucina Abbiamo interesse con qualcosa Qui non si fa Ma mi sparisce il terreno Dietro dalle spalle E' una volta che passo E vado avanti Sembra di sì Non lo so Comunque vabbè Questa c'era una specie di casa Ma Niente di che Suppongo Ok devo stare attento Qui alle piattaforme Ok è semplice Semplice Possiamo farcela Possiamo farcela Tranquillamente Andiamo avanti Andiamo avanti It's not a glitch It's a future Va bene Questo è il futuro Ragazzi Meglio quello dell'Italia Andiamo avanti No di nuovo Sì e cosa sono Queste cose che cascano Adesso Ripartiamo No da qui No eh Da sono questi cosi Che cadono Mi vogliono ammazzare Immagino come sia Il quarto livello Di questo gioco Ti farà davvero Impacibile È un cadavere In televisione Aveva solo 19 anni Al tempo Ecco dove si svolgerà Tutto l'intero Gameplay Si svolgerà qua Potremmo starci le ore Sono sicuro È infatti È infatti Staremo qui Tutto quanto il tempo Riusciremo a Oddio Quindi ora Se perdo il ritmo Ragazzi È finita È finita Piano Piano I don't want to Non voglio farlo ancora Mi ha cambiato Qualcuno che bussa Una porta Una porta che sbatte Chi è quel mona Chi è quel mona Vale morire meglio Non ci siamo mai Qui moriamo a casa Anche sta fermi Probabilmente Siamo ancora più forte Ma no È smesso No Questa è troppo veloce Troppo Cioè ci vuole troppo tempo No da qui Sì è Eh vabbè Ok Doppio piano Oddio Quasi il naso Ce l'ho rimesso lì Eh Ah no Questa è la porta Comincia a sbattere Mi siamo avanti Più sbatte forte Sentite Ma io non so Se torno indietro Mi sa che non posso più tornarci Eh Vedi Sparisce Poi si sente ancora Forse Non è voluto dal gioco Perché Magari forse il gioco Pensa che tu Vada più avanti È possibile Non ha il motivo Di tornare indietro E quindi ti cancella il percorso Per crearlo davanti Probabilmente una memoria Del gioco Che è molto Ristretta E quindi deve togliere Per dare Eh ma però Come faccio a saltare Su quello lì Come faccio È sempre da qua Eh vabbè Beh questa parte Si è rivelata abbastanza semplice I don't want to Flare Blah 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 Andiamo ancora avanti Ma qui il tempo Che scorre è sempre uguale Mi sembra tanto uguale Vero Non lo so Dai Dai saltiamo Dai Devo prendere il tempo giusto Qui Quando scende Ora tipo Quasi Quasi Genti A questo supereroe Cavolo C'è il mantello Plana allora Plana Sei una merda L'ho sempre fatto adesso Perché devo morirci L'ho sempre fatto Ma è riuscito Fino ad ora Ora perché devo morirci In questa cazzo di cosa Ok Ok Andiamo Dai Ma se non è difficilissimo Ho giocato anche di peggio Va bene Quindi dai Ma soltanto Prendere il tempo giusto Non Ora No No Io Perché mi odi Perché mi odio Si tanto Da farmi morire No E qui Ci siamo ragazzi Dai Ma questa porta Sbatte Così L'ho in quel posto Io Quando devo saltare Per prendere la piattaforma Qui non lo so Ok Non devo fare un doppio salto Perché sennò ci metto Troppo Troppo tempo Ora Non l'ho mancata No 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 Dai No Ma perché Cioè Poi ci devi passare Un preciso C'è un punto solo Dove Devi saltare Che altrimenti Ti prende Più Più divertente Giocare a Granny 2 Più divertente Ok Sentiamo la porta Che sbatte Dai Ta 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 Oddio Dov'è la tombstone I don't want the same thing To happen to you Non voglio Tom Grazie Oddio Grazie Oddio Non voglio La stessa cosa Capiti a te Cosa vuol dire Mi è stata rapita O qualcosa del genere Quindi No Fermi Qui forse Ci arrivo anche Un po' più lungo A prendere quello laggiù Forse Dici Ci riuscirei anche Ad arrivare anche Al secondo Ci riuscirei anche Devo prendere Il tempo giusto Però Porca miseria Quanto sta diventandolo In questo video Enorme Sta diventando Enorme In questo video Diabestia Bestia Mi ha proprio buttato Come fai Come fai Come fai Come fai A arrivare in fondo Come fai Come fai Dimmelo Come fai Oddio I giochi Rilassanti Della domenica Sera Capito Oddio No 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 C'ero quasi C'ero quasi Forse ho capito Un po' il metodo Così Devo passarli sotto Alla ricerca Della Thompson Subito Dear ex Che c'è scritto After 40 days Of roaming Got su Killing To which was Just a game Two Thompson Grazie 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 No Ti mi vuoi fregare Qui come faccio Lo fa così Tipo Si è Porca Mi è sempre più difficile Sempre più Io dico Ma la gente Perché inventano Sta roba Perché inventano Sta roba Per farci giocare Poi noi Poveri youtuber Devo prendere Il tempo Giù Il tempo Giù Sto giocando Su uno stack Su un emulatore Immagino Giocarci Con i dittini Su un telefono Cioè qui ci moriresti Il doppio delle volte Ma posso passare sopra No Perché sai A volte i troll Ci sono Oddio Dai l'ultimo Grazie No Non ascoltare più The dev Non giocare più A questo gioco Ok Di nuovo Ce l'ho fatta la prima Non dite neanche come ho fatto Non lo so I don't want you involved I've always said Please don't play this game Ma non dire Non ascolti I don't want Non voglio farti male Close Ci chiudi il gioco adesso Allora se lo stiamo Cosa facciamo Lo chiudiamo Oppure no Mi sta inquietando Questa situazione Sinceramente Oh Oh Perché Non funziona più niente Ma è normale Sta cosa Qui va Qui no Looks like I had left some Of the platform I'm going to try something Shut up Dev Che si fa E come si fa qui Ma perché ci sono C'è tipo un muro Forse qui No C'è nel senso Com'è che faccio Ad andarci Adesso Forse sono finti Queste cose No Questo è verissimo Questo è vero Lui Questo è vero Anche lui Come il terzo Mi sa che già sul terzo Sono morto anche lui Infatti Aspetta un po' No si muore Ragazzi Questa parte in fondo È abbastanza Da dito su Per il retto Io non so Assolutamente Come farla Come farla E' venuto giù il menu di gioco E' venuto giù Don't play this game Abbiamo capito Non dobbiamo giocare No E' come ho fatto prima Ho cliccato qua Ok ok Devo scappare Devo scappare Velocissimo Vai 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 La pubblicità adesso mi metti Mi metti la pubblicità adesso Ragazzuoli Mi sono cagato addosso tantissimo Ma siamo arrivati all'ultimo livello di questo gioco Che faremo nel prossimo video ovviamente Concludiamo anche questo video E occorrei perialzati Perché non mi aspettavo La pubblicità era un troll Era lei Maledetta Io spero che anche questo video vi sia piaciuto Come al solito avete lasciato un sacco di like Ci vediamo nel prossimo video Ciao